Ciao a tutti ragazzi, in questo video prepariamo insieme uno zaino per un'escursione giornaliera. Vedremo cosa portarsi, dove andare a riporlo all'interno dello zaino e qualche consiglio mio personale che ho sviluppato in questi anni. Iniziamo il video. Iniziamo a comporre il nostro kit per la nostra escursione giornaliera partendo dallo zaino. Io in questo caso utilizzerò il mio ferrino agile 25, ma se non sapete che zaino utilizzare, se dovete acquistare uno nuovo, comunque volete qualche consiglio sugli zaini, vi lascio qua in alto a destra nelle schede il video, la guida all'acquisto che ho realizzato sugli zaini, così che potrete sapere praticamente tutto per quanto riguarda gli zaini da trekking. Però iniziamo. Il mio ferrino da 25 litri. Cosa è la prima cosa che ci vado a mettere dentro? Il nostro strato impermeabile. E abbiamo due soluzioni. La prima è quella di una giacca singola, sia impermeabile che imbottita, che ci tenga anche un pochino al caldo. La seconda è quella di separare le due cose, quindi avere una giacca che ci permetta di restare all'asciutto, sia in Gore-Tex o altri materiali simili, e insieme un piumino che ci permetta di restare al caldo. Sono due soluzioni diverse, svolgono entrambi la stessa funzione, però adesso vediamo quello che è il pro e il contro di ognuna. Giacca singola. Beh, sicuramente il peso, perché abbiamo una cosa rispetto che due. Però diciamo che è una via di mezzo, nel senso, dal punto di vista dell'impermeabilità, se sono fatte bene, tengono quanto una giacca singola, senza nessun problema. Il problema sta nella traspirazione e nel tenere caldo. Di solito una giacca singola traspira un pochino meno e tiene un pochino meno caldo. Questo perché naturalmente per fare un po' tutto bisogna sacrificare un po' da qualche parte. Se invece prendiamo la soluzione divisa in due, quindi con le due cose separate, abbiamo un piumino che ha il solo scopo di tenerci al caldo e che quindi svolge la sua funzione al 100%, e una giacca, di solito in questo caso, non avendo imbottitura, che sono molto leggere e che ci terrà all'asciutto. Quale soluzione vi consiglio? Beh, diciamo che vi consiglio di sperimentare. Io l'ho sperimentata entrambe e alla lunga mi sono accorto che la soluzione divisa è quella che preferisco. Perché se devo andare a camminare con una giacca impermeabile addosso, questa mi fa sudare decisamente meno e riesco a tenermi molto più al caldo con un singolo piumino, piuttosto che con una soluzione doppia. Perciò a questo punto comunque andiamo a inserire l'interno dello zaino. Magari questa la facciamo sparire, visto che abbiamo detto che a me non piace così tanto, e ci inseriamo i due strati. Li mettiamo naturalmente in fondo. In fondo perché io spero sempre di non doverla utilizzare, quindi la pongo in fondo proprio nella speranza di non doverla utilizzare. Seconda cosa che vado a inserire. Un cambio. Un cambio di calzini e di maglietta. Questo perché anche se abbiamo le scarpe in Gore-Tex, o comunque in qualche membrana impermeabile, nelle scarpe può comunque sempre entrare un po' d'acqua. È sempre meglio avere un paio di calzini dietro, perché restare tutto il giorno con i piedi nel bagnato non è una buona idea. Alla lunga può far male il piede. E poi una maglietta perché torna sempre utile. Se arriviamo in vetta e c'è vento e siamo sudati, ce la possiamo cambiare. Diciamo che una maglietta torna sempre utile da avere dietro. Queste cose magari possiamo inserirle se vogliamo anche in una dry bag, in una sacca impermeabile. Però se lo zanno è impermeabile o abbiamo anche un rain cover, possiamo inserirle dentro anche così sfuse. Quindi successivamente ci inseriremo dentro il nostro cambio. Continuando. Guanti. Questi sono dei guanti molto semplici di The North Face, dei guanti che io mi riporto anche d'estate, perché se saliamo di quota o dobbiamo magari impugnare qualche catena, rischiamo che la mano ci si raffreddi. E tornano sempre utili, davvero. Non sottovalutateli anche d'estate. Quindi questi anche loro finiscono dentro. Altra cosa molto importante che non può mai, mai, mai mancare, il kit di primo soccorso. Di questi ne esistono tantissimi. Io vi linko qua sotto questo che ho comprato su Amazon, ma anche tutti gli altri prodotti che vedete in questo video. E che dire, questo non può mai mancare, davvero. Cioè questa è la prima cosa che dovete tirare su ogni mattina quando uscite per andare in montagna. Non può mancare. E naturalmente finisce dentro il mio zaino. Successivamente, beh, all'interno dello zaino, proprio all'interno all'interno, io di solito non ci pongo più nulla. Questo è tutto quello che metto all'interno dello zaino. Naturalmente possiamo andare anche a espandere il nostro materiale da portare in montagna. Sicuramente d'inverno avremo bisogno magari di più vestiario, magari anche dei ramponcini. Però più o meno quello zaino che stiamo facendo un po' per un clima primaverile-estivo, ecco, con temperature un pochino calde. Perciò continuiamo con la parte esterna. Borraccia da un litro. Anche questa, vabbè, non c'è bisogno che vi dica che non deve mai assolutamente mancare. E la mettiamo all'esterno del nostro zaino. Continuando, cosa prendiamo? Occhiali da sole. Questi sia d'estate che d'inverno. D'estate per il sole, d'inverno idem, ma più che altro per la rifrazione della luce sulla neve. Quindi assolutamente non deve mancare. Io li metto sempre nella tasca in alto perché così riesco a prenderli anche da solo mentre cammino. Altra cosa che vado a porre nella tasca superiore è una torcia. La torcia non deve mai mancare. D'inverno perché magari le giornate sono corte ma anche d'estate perché è un imprevisto sempre dietro l'angolo. Magari pensiamo di arrivare alla macchina alle 4 del pomeriggio poi ci finiamo alle 7, alle 8 di sera perché andiamo più lenti, per qualsiasi motivo e avere dietro una torcia può fare la differenza. Non pensate di utilizzare la torcia del telefono perché fanno meno luce innanzitutto e poi vi tengono le mani occupate. Cioè se voi avete bisogno di una mano per passare qualche punto complicato o utilizzare i bastoncini non potrete utilizzarla perché avete il telefono. Quindi mi raccomando la torcia e deve essere carica naturalmente se non serve a nulla. Ora inseriamo la torcia sempre nella parte in alto. Nella parte in alto vado a inserire anche il mio multitool un piccolo coltellino non servono dei coltelli enormi veramente basta un coltellino svizzero piccolo piccolo che ha tutto il necessario. Io con questo mi sono sempre trovato bene e non ho mai avuto necessità di coltelli più grossi. Quindi anche lui finisce qua. Ultima cosa barrette. Queste dobbiamo sempre portarceli dietro sia che mangiamo in rifugio sia che non mangiamo in rifugio perché mentre camminiamo può venirci fame metà mattina metà pomeriggio e via dicendo. mio consiglio sono barrette alla frutta anche frutta secca comunque portate quello che più vi piace non c'è nessun problema ma anche che non siano barrette potete portarvi anche una brioche qualcosa da mangiare comunque dobbiamo avercela. Genericamente metto la maggior parte delle barrette sopra o comunque all'interno se no tante. E poi un'altra barretta invece andiamo a metterla su una tasca lombare. qua quindi qui andremo a mettere la barretta e sempre sulla tasca insieme alla barretta di facile accesso ci metto la crema solare. Io mi trovo bene con queste qua della Pizbuin sono fatte veramente bene sia per l'estate che per l'inverno non fanno sudare proteggono dal vento sono pensate proprio per la montagna che dire cioè sono veramente buone io con queste qua sono anche il formato è bello piccolino da potersi portare dietro quindi crema solare vi consiglio queste qua della Pizbuin e finiscono nella fascia lombare proprio per averla portata di mano. Dall'altra fascia lombare sull'altra tasca ci vado a inserire il telefono il telefono che utilizzo io nelle escursioni anche per le mappe per questo non vedete cartine o via dicendo però magari di questo ne parliamo in un altro video sulle mappe sul telefono e vado a inserire anche il mio telefono bene ora lo zaino è quasi completamente finito aggiungerei un pacchetto di fazzoletti che a discrezione possiamo mettere o sulla fascia lombare o nella parte in alto dove vogliamo io di solito li metto magari in qualche tasca esterna dello zaino senza tanti problemi qua e per concludere naturalmente non possono che mancare i nostri bastoncini bastoncini che ci aiuteranno tantissimo io vado a riporli qua naturalmente sulla parte esterna però durante la nostra passeggiata dovremo utilizzarli quindi diciamo che li riponiamo qua solo proprio quando usciamo di casa per partire ed eccoci qua con il nostro zaino finito ora siamo pronti ad andare in montagna a goderci la nostra escursione come vi dicevo la mia scelta di cosa inserire all'interno dello zaino è portata a un'idea di un'escursione primavera estate non è un'escursione invernale perché li cambia un po' di cose però diciamo che questo è proprio il minimo indispensabile se volete aggiungere altro ben venga fate voi se invece pensate che qualcosa non vi serva diciamo che questo arriva con l'esperienza più si va avanti più magari si riesce a ridurre all'osso anche quello che è inserito qua dentro comunque il mio consiglio è sperimentate vedete cosa vi piace di più con cosa vi trovate meglio è la soluzione migliore per crearsi lo zaino fai da te proprio in base alle nostre necessità perciò ragazzi nella speranza che questo video vi sia stato utile io spero di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video e ci vediamo al prossimo ciao